buongiorno e ben ritrovati al terzo appuntamento col tg 108 puntata flash quest'oggi speciale divali buona festa della luce a tutti happy divali questa sera speriamo di vederci tutti per una cerimonia insieme piena di luce dal tempio della gioia e online andiamo avanti con un bel reportage di ananda in questo autunno come vedete ci sono tantissime foglie in terra purtroppo questo momento abbiamo solo quelle nostri cari ospiti come ben sapete non possono venire però ci saranno tanti appuntamenti online per stare insieme tanta ispirazione tanto satsang tanta devozione e andiamo avanti con la prossima notizia siamo vicini alla festa del ringraziamento qui ad ananda da tantissimi anni abbiamo una bellissima usanza ovvero noi membri della comunità ci scambiamo in questo santo giorno i nostri ringraziamenti l'un l'altro i nostri apprezzamenti che vengono direttamente dal cuore e ci scambiamo questi bigliettini magici e oggi vi voglio consigliare anche a voi di fare questa bellissima cosa se lo vorrete potete scrivere a chi vorrete voi un biglietto per ringraziare queste persone questi conoscenti adesso prego la regia di mettere il bollino spoiler alert perché vi daremo una notizia in super anteprima natale ad ananda quale sarà il tema la luce della speranza non dirò tanto ma ci saranno tantissime celebrazioni tanto stare insieme tanto coinvolgimento e una serata speciale appunto per stare insieme nella luce della speranza quindi vi aspettiamo e questa era l'ultima notizia del tg 108 al prossimo appuntamento una buona serata l'ultima notizia del tg 108 al prossimo appuntamento una buona serata Grazie a tutti.